Ancora un'odissea per un paziente del Salernitano. Un cinquantenne colpito da Ictus ha dovuto attendere 20 minuti in ambulanza. Prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale Ruggi di Salerno, il cancello per raggiungere la pista era chiuso ed il lucchetto era stato cambiato senza preavviso. È successo nel quartiere fieristico in località Pattano di Vallo della Lucania. In seguito all'intervento di un operaio comunale, l'ambulanza ha potuto accedere alle lipiste e si è proceduto con il trasferimento del cinquantenne. È solo l'ennesimo caso, situazione preoccupante anche all'ospedale di Salerno. Esauriti posti letto in pediatria. Non regge più la rete diciamo protettiva in un qualche modo che da parte degli ospedali periferici perché oramai molti degli ospedali periferici hanno un numero di posti letto che si è ridotto ma soprattutto molti dei posti letti non sono funzionanti. Diventa l'ospedale di riferimento un po' per tutta la provincia. Per il presidente D'Angelo è il momento di intervenire. Di fatto non abbiamo ancora fatto nulla per quello che riguarda il territorio. L'Europa ci ha dato la possibilità di poter mettere a posto questa condizione diciamo periferica. Purtroppo se ritardiamo ancora e aspettiamo ancora che questa situazione periferica possa migliorare continueremo ad avere situazioni come questa e soprattutto grossi grossi problemi.